Pesaro arrestato 46enne con 11 kg di marijuana Minorenne pesarese fermato con un chilo di fumo Finte guardie giurate, tre persone multate Amianto a Pesaro ed intorni urge bonificare Vallefoglia, due giovani con la passione per la terra Una buona serata cari amiche e amici di Rossini TV per questa nuova edizione del Rossini News telegiornale di mercoledì 23 di agosto che apriamo con la cronaca e con l'arresto da parte dei carabinieri della stazione di Montecchio ai danni di un 46enne italiano disoccupato e pregiudicato che possedeva in casa oltre 11 kg di marijuana tra cui 9 piante, 3,7 kg della stessa sostanza essiccata e 8 kg di semi per coltivarla oltre ad una cospicua somma di denaro Dopo la perquisizione dell'immobile l'uomo si è giustificato dicendo che parte di quanto rinvenuto era riconducibile ad una pregressa attività lecita condotta da un'impresa agricola di famiglia Per il 46enne sono scattati gli arresti domiciliari Un altro arresto è avvenuto a Pesaro dove ad essere stato colto in possesso di più di un chilo di fumo è un 17enne residente a Pantano Si trova ora all'istituto penale per i minorenni di Bologna il 17enne pesarese arrestato per aver messo in piedi un rilevante traffico di hashish tra coetanei I fatti risalgono esattamente a un mese fa quando la mattina del 22 luglio scorso la squadra mobile di Pesaro Urbino ha bussato alla porta di casa del giovane residente a Pantano Alla vista delle forze dell'ordine il minore si è mostrato subito collaborativo consegnando in un primo momento due panetti di fumo che custodiva nel comodino della sua camera da letto assieme ad un bilancino utile per dosare il quantitativo da smerciare Alla consegna del materiale il giovane ha immediatamente compreso che i militari avrebbero proceduto con la perquisizione dell'abitazione A quel punto il 17enne ha consegnato anche uno zainetto che conteneva nove panetti di hashish oltre ad alcuni strumenti usati per la divisione delle dosi da spacciare In poche parole il quantitativo ammontava più di un chilo di stupefacenti Il minorenne è stato trasportato in questura a Pesaro dove il pubblico ministero di turno ha disposto la sua collocazione presso il centro di prima accoglienza di Ancona Da lì poi il trasferimento presso l'istituto penale di Bologna Il ragazzo che sarà difeso dall'avvocato Canducci era già noto alle forze dell'ordine per diversi atti vandalici legati agli episodi delle baby gang che negli anni hanno agito tra i quartieri di Pantano, Muraglia e Montegranaro prendendo di mira Piazza Redi Ancora cronaca con la questura di Pesaro e Urbino che dopo un'intensa indagine ha individuato e sanzionato tre cittadini italiani per aver abusivamente indossato la divisa e utilizzato segni distintivi di guardia particolare giurata senza alcuna abilitazione richiesta dalla legge Ad aprile i primi presagi quando una volante della polizia aveva notato due persone sospette girare per le vie della città indossando una divisa da guardia contrassegnata dal marchio di un istituto di vigilanza I due sono stati poi fermati dichiarandosi però dipendenti di tal istituto Falsità emersa dopo un controllo effettuato nelle successive settimane dove è emerso che tre uomini avevano sì stipulato un contratto con un istituto di vigilanza ma esclusivamente di natura commerciale La recente scomparsa del consigliere comunale Roberto Biagiotti per mesotelioma ha riacceso l'attenzione sulla nocività dell'amianto ancora molto presente nella provincia di Pesaro e Urbino Abbiamo approfondito l'argomento con la presidente di ONA Pesaro Elisabetta Sacchi La prematura scomparsa del consigliere comunale Biagiotti per mesotelioma ha fatto rizzare le antenne all'amministrazione sulla tematica amianto La sua resistenza al calore ha fatto sì che questo materiale venisse utilizzato in maniera spropositata dalle aziende fino ai primi anni 90 quando poi la sua produzione divenne fuori legge in Italia nel 1992 La nocività per la salute dell'uomo di queste fibre, se inalate è stata accertata per aver generato nel corso del tempo la formazione di gravi patologie Ed ora, dopo che in questi 30 anni è stato fatto ben poco riguardo allo smaltimento di amianto in questi giorni Elisabetta Sacchi, presidente di ONA Pesaro sta instaurando una serie di dialoghi con Comune e Regione L'obiettivo è sollecitare al più presto l'attuale governo a favore di una riforma che preveda una quanto mai rapida ed estesa bonifica di questo materiale presente ancora massicciamente in Italia L'amianto è ancora tanto presente sul nostro territorio È da luglio che sto cercando di prendere dei contatti appunto con il Comune, con la Regione e anche con Roma perché poi se non parte dal governo fanno fatica anche tutti i vari enti istituzionali a mettere in pratica le leggi Si è aperto questo dialogo con il Comune e abbiamo pianificato delle azioni più urgenti da mettere subito in pratica e sto aspettando un incontro con la Regione che ho scritto anche loro da luglio per poter attuare anche con loro le leggi che ci sono in vigore noi abbiamo il Decreto 101 dove dice del 2003 che era la Regione che doveva fare la mappatura e che ogni anno, entro il 30 di giugno, dovevano trasmettere all'Ufficio Ambiente di Roma la situazione della Regione. Dal 2003 ad oggi non è mai stato fatto e quindi sto cercando di mettere in moto questa mancanza che c'è stata in tutti questi vent'anni di tempo Naturalmente abbiamo visto che ci sono dei segnali positivi anche da Roma con il senatore Turco che ha presentato un disegno di legge per bonifiche a Mianto sia degli edifici pubblici che dei privati quindi mi fanno ben sperare che questa volta veramente il problema a Mianto sia preso di petto Ha parlato di mappatura, quanto è ancora rilevante la presenza della Mianto nella provincia di Peser Urbino? Noi ancora abbiamo tantissima presenza nelle zone industriali, nelle zone agricole ma anche al centro delle città abbiamo fatto diverse segnalazioni di presenza di Mianto che ci arrivano dai cittadini perché adesso l'importante per mettere in sicurezza i nostri luoghi di vita è vedere che non ci sia rilascio di fibre quindi bisogna assolutamente controllare queste pettoie che come ho detto prima persino al centro della città in via Branca ci sono quindi dobbiamo assolutamente far controllare che non ci sia il rilascio purtroppo sapete tutti il problema a Mianto perché c'è c'è perché non ci sono i fondi, non ci sono i soldi anche per le famiglie stesse è una spesa un po' insostenibile quindi se non arrivano da Roma, dalla regione ma anche dal comune dei bandi per cui accedere, per cui aiutare sia le famiglie ma anche gli imprenditori a mettere in sicurezza i luoghi di vita facciamo difficoltà ecco chiedo anche i proprietari di questi manufatti in Mianto di farli controllare, di veramente che non ci sia questo rilascio ci sono vari metodi, noi siamo a disposizione come associazione attualmente sono 6.000 le morti all'anno in Italia per via dell'inalazione di queste fibre non c'è solo il mesotelioma come tumore per l'Amianto mesotelioma era una parola che io fino a quanto non mi è morto babbo non l'avevo mai sentita e adesso invece in quest'ultimo anno oltre al consigliere di 40 anni ecco perché dico che dobbiamo assolutamente mettere in sicurezza perché se tenete conto che i tempi di latenza sono dai 20 ai 40, 50 anni cioè una persona di 40 anni vuol dire che ha forse innalato le fibre nella gioventù quindi chiedo veramente l'intervento di tutti, di veramente tutti e vi abbiamo raccontato ieri della non candidatura alle prossime elezioni comunali da parte di Umberto Carriera nonostante avesse a detta sua organizzato un incontro con altri cittadini della città per poter formare una lista civica incontro andato in scena lo scorso lunedì sera al Circolo Muraglia ma il gruppo promotore della riunione ha preso le distanze da quanto proclamato dal noto imprenditore sottolineando che Carriera non ha organizzato alcun meeting rimarcando che da tempo un certo nucleo di cittadini si stava già confrontando sulla formazione di una nuova lista civica in assenza dello stesso leader di Ioapro il gruppo dunque prenderà le distanze da qualsiasi dichiarazione farà carriera nelle prossime settimane il quale al termine dell'incontro svoltosi lunedì si era allontanato ammettendo come gli ideali tra lui e gli altri cittadini presenti fossero distanti i tempi cambiano ma le passioni anche quelle più antiche restano lo sanno bene due giovani di Vallefoglia che hanno deciso di aprire un'azienda agricola in conversione biologica mentre la gran parte dei giovani d'oggi aspira sempre più ad un impiego comodo o mentale ci sono ancora ragazzi che amano stare a contatto con la natura tramutandolo in lavoro uniti dalla passione per la terra tramandata dai loro nonni e legati dal sano valore dell'amicizia due ragazzi di 22 e 24 anni da circa un anno e mezzo hanno dato vita a Terra Madre una società agricola nel territorio di Vallefoglia Carlo e Pietro sono i creatori di una vera oasi naturale incastonata tra le frazioni di Talacchio e Padiglione elaborata a sensibilizzare sul chilometro zero, sulla sostenibilità e sul cibo di qualità nelle tavole domestiche io facevo l'orto insieme a mio nonno Pietro Uguale e abbiamo iniziato la nostra piccola esperienza con l'acquaponica e quindi producevamo mente basilico per rifornire i bar locali e da qui ci siamo trovati bene, ci è piaciuta questa esperienza e abbiamo deciso di fondare ormai un anno e mezzo fa una società agricola noi siamo un'azienda in conversione biologica e produciamo ortaggi di vario tipo potete vedere pomodori, zucchine, melanzane, peperoni, insalata, anguri e meloni per il momento e ci stiamo preparando a piantare più di 55.000 piante invernali e abbiamo impiantato da poco, da febbraio, anche il nostro frutteto di pesca, albicocca e ciliegia tutti i nostri prodotti vengono trattati solamente con prodotti bio quali rame, zolfo, olio di neem, piretro eccetera questo perché il nostro sogno iniziale, forse un po' autopistico era quello di riuscire a garantire una sostenibilità al nostro paese a quello di Vallefoglia e anche dintorni quindi come Pesaro e così da garantire ai cittadini prodotti locali, naturali e quindi garantirli appunto un'ottima qualità del cibo Sicuramente anche la peculiarità di un legame con la terra che avete che sicuramente è anche in controtendenza con le passioni dei giovani attuali Questa passione di un lavoro duro, davvero faticoso ma che ti dà allo stesso tempo tante soddisfazioni è un lavoro un po' in, diciamo, controtendenza rispetto all'attualità dei ragazzi che generalmente si lanciano più su altri settori questo perché appunto la fatica è tanta e a volte purtroppo anche il riscontro economico non è sempre dei migliori Diverse le iniziative anche che avete organizzato in questo periodo estivo ma non vi fermate e quindi continuate a programmare queste iniziative Per esempio abbiamo organizzato un evento il 2-3 settembre qui a Vallefoglia nel nostro labirinto di mais dove i bambini potranno fare un giro nel labirinto di mais ci sarà inoltre un cavallino dove i bambini potranno poi fare un giro sopra il cavallino ma non mancheranno anche giochi per bambini e palloncini modellabili Restiamo a Vallefoglia dove il comune ha approvato un progetto relativo all'intervento di efficientamento energetico degli impianti sportivi presenti nel territorio I nuovi impianti con tecnologia LED a basso consumo energetico interesseranno la struttura del Morciola Sporting la palestra comunale in piazza Europa Morciola la palestra del campo sportivo di Sant'Angelo in Lizzola e la palestra in via Pio Latorre a Montecchio Il progetto esecutivo comporterà una spesa complessiva di 90.000 euro totalmente finanziato dai fondi del PNRR E giovedì 24 agosto alle ore 19.15 ci sarà lo svelamento della Madonnina dei Cappuccini etichettata come il simbolo dello sfregio inflitto dal terremoto che lo scorso 9 novembre aveva colpito Pesaro Il merito per aver preso in carico il restauro della statua va dato ai Lions Club Pesaro della Rovere che unitamente a Renco S.P.A. e al Comune di Pesaro hanno permesso alla Madonnina dei Cappuccini di tornare al suo originale splendore E nei giorni scorsi ci sono arrivate diverse segnalazioni che marcavano la presenza di enormi meduse giunte a riva delle spiagge pesaresi in linea con quanto evidenziato l'assessore all'ambiente Conti attraverso un comunicato ha invitato la cittadinanza ed evitare comportamenti crudeli nei confronti di questi animali tenendo un comportamento responsabile Si tratta della Cassiopea Mediterranea che risulta essere non urticante la medusa quadrifoglio che è poco urticante e le innocue noci di mare esseri arrivati nelle nostre acque a causa delle correnti e delle alte temperature di questi giorni Da ieri Pesaro ha una sua protettrice post-moderna la Madonna dell'Alluvione realizzata da Alessandro Baronciani nel piccolo stabile di proprietà comunale collocato tra via Trinelli e via Belgioioso Si rivolge a quell'acqua che a maggio scorso con l'alluvione ha avvolto di paura e danni la città Per la Madonna dell'Alluvione l'artista ha usato della carta e l'ha affissata sul muro volendo dare un avvertimento a ricordare che la solidarietà è un valore che potrebbe logurarsi come la carta anzi bisogna averne cura ed esercitarlo Torna a Pesaro in prima esecuzione mondiale in epoca moderna il Birraio di Preston opera che sarà presentata al Festival del Bel Canto Ritrovato In questa prima settimana di spettacoli si parte da giovedì 24 agosto alla Corte Malatestiana di Fano con il concerto lirico-sinfonico I nostri Perrossini a dirigere l'orchestra in grande stile, in grande formato sinfonico il maestro Riccardo Bisatti, giovanissimo talento internazionale della direzione d'orchestra Si passa poi al 25 con un doppio appuntamento al mattino la conferenza di Claudio Toscani che prepara gli spettatori all'ascolto serale del Birraio di Preston l'opera che quest'anno restituiamo all'ascolto del grande pubblico scritta da Luigi Ricci e che da 133 anni non veniva eseguita è un'opera bellissima e quindi invitiamo tutti ad ascoltare questa riscoperta poi una due giorni urbinate 26 e 27 agosto nella bellissima piazza Duca Federico per la replica il 26 del concerto lirico-sinfonico I nostri Perrossini e il 27 la seconda edizione del concerto Il Bel Canto Marchigiano un concerto in cui facciamo vedere come questi compositori della prima metà dell'Ottocento avessero in gran parte, almeno ci fossero tanti compositori di origine marchigiana quindi potete trovare tutto su Viva Ticket peraltro la vendita online non prevede il ricarico e quindi i biglietti li potete comprare sia su internet che all'ingresso degli spettacoli al prezzo che trovate sui nostri social e sui nostri siti e all'arena BCC di Fano il 25 agosto arriva la compagnia Teatro Accademia con lo spettacolo Cum Girafini 25 agosto ci avviamo alla conclusione dell'estate BCC è la domanda che ci sorge spontanea ma Cum Girafini? Sì appunto perché nessuno sa mai all'inizio come andrà a finire sono quattro pièce che raccontano dei momenti di vita coniugale che sappiamo come iniziano ma non sappiamo come andranno a finire logicamente si cercherà di andare a finire nel modo giusto questo è tutto fatto in vernacolo partendo anche dai testi un po' antichi rimaneggiati per ritrovare, per conservare soprattutto ci faccia dire una cosa questa definizione vernacolo anche questa è un termine antico perché si dice dialetto però in realtà il vernacolo ci sta a pennello sì il vernacolo è proprio quello insito del territorio quindi è più ristretto ed è diciamo un modo di esprimersi che va a morire quindi noi in questo momento stiamo facendo un'opera di rianimazione cerchiamo di mantenere vivo quello che andrà a finire nel dimenticatoio si riderà? sì assolutamente quindi vi invitiamo tutti a venire a ridere insieme con noi con il Teatro Accademia il 25 agosto alla BCC Arena che è sempre un incontro meraviglioso ed ora lo sport con il marchigiano Gianmarco Tamberi che nella serata di ieri ha conquistato la medaglia d'oro nel salto in alto ai mondiali di atletica di Budapest un risultato straordinario che lo ha portato sul gradino più alto del podio dopo aver volato sopra l'asticella posta 2 metri 36 centimetri arrivando davanti allo statunitense Harrison e al Katariota Barsham con il quale aveva condiviso la medaglia d'oro alle ultime Olimpiadi di Tokyo 2020 e con la notizia sportiva si conclude qui questa nuova edizione del Rossini News prima di salutarci però vi ricordo come sempre gli appuntamenti di serata infatti questa sera alle ore 21.20 trasmetteremo il documentario a cura del fotoclub Pesaro dal titolo Lavanda e poi vi ricordo anche l'appuntamento per domani mattina come sempre in diretta alle ore 7.20 dal lunedì al sabato con la rassegna Buongiorno Rossini la rassegna stampa dei quotidiani della provincia di Pesaro Urbino ed ora è veramente tutto io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata